Ciao caro amica creativa, benvenuti al canale Cartonaggio e Creatività, il canale dedicato all'arte di trasformare i cartoni pressato in bellissimi oggetti. Hola, mia querida amica creativa, benvenuti al canale Cartonaggio e Creatività. Se non mi conosci e è la prima volta che arrivi qua nel canale, io sono Adriana, sono insegnante di questa tecnica. Se você non me conhece, è la prima volta che chegou qui nel canale, io sono Adriana, sono professora di cartonaggio in Roma, in Italia dove moro e oggi ti insegnerò a realizzare un bellissimo oggetto, che tanto di voi mi hanno chiesto. E oggi noi vamos realizzare un progetto che molti amigas creativi già mi pedirono. Prima di iniziare, caro amica, ti invito a iscriverti nel canale, a cliccare sulla campanella così riceverai tutte le notifiche del prossimo tutorial, lascia anche il tuo like e condivide questo video con altre creativa. Se ti interessa, venne anche a far parte del gruppo Cartonaggio e Creatività dove condividiamo altre idee. Antes da gente começar o nostro tutorial, eu convido você a se inscrever no canal, a clicar no sininho, pra você receber todos os avisos dos próximos videos, deixa o teu like, pra ajudar o canal a crescer e se ti interessa, e se inscreve também no grupo do Facebook Cartonaggio e Creatività. Vou deixar o link aqui na descrição. Basta de blá blá blá, vamos parar de blá 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 e iniciamos subito, vamos começar o nosso tutorial. Realizzaremos insieme questo fantástico recolhedore. E a gente vai fazer esse porta revista muito fofo. Iniciamo subito allora, vamo'lá? 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 Grazie a tutti. 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 e a tutti. 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 a tutti.